Però io credo che a volte una donna abbia bisogno di un'altra donna e spesso Soleil si isola perché avverte questa necessità, aspetta Soleil, e glielo ho detto anche, spesso fuori, vabbè, anche altri orari rispetto a noi ci mancherebbe. Quello che ho consigliato Soleil, io la cerco tanto perché lei poi mi diverte, ridiamo tanto insieme, quindi in questo, però io le ho consigliato, aspettate fatemi terminare, un secondo Manila, si isola o la isolate? Perché c'è una bella differenza, attenzione, si isola o la isolate? Perché quello che vediamo noi da casa è quello, però scusate, ragazzi scusatemi, però qui dentro non c'è l'invito col piccione viaggiatore, è una casa e tutti vanno da tutti, quindi è normale che quando una persona sta in disparte con quattro persone, allora posso sembrare un isolamento, ma noi non isoliamo nessuno. Ma lo hanno detto loro nei confessionali stessi, io non ci credo, se lei è da una parte della casa, io sono dall'altra, Soleil qui, Soleil là, siete voi a creare questa freddezza nei miei confronti? Io non mi faccio mai parlare, non mi fate mai parlare, veramente.